frat funzionerà la macchina del tempo vero non lo so capo ma di sicuro continueremo a provarci dobbiamo riuscirci devo tornare nel passato e dire alla mamma che le voglio bene se n'è andata prima che potessi farlo magari se torno indietro glielo dico non se ne andrà più deciderà di rimanere qui frat smetterai di bere vero anche perché puzzi tanto quando lo fai simpaticone dai mandiamo un cuore alla mamma cian ti voglio bene mhm ciao 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 ciao